122 nuovi contagi da covid concentrati in sole tre province su quasi 8.000 tamponi effettuati in tutta la regione. Il bollettino epidemiologico di lunedì 6 settembre risparmia Brindisi, Batte e Taranto, dove nelle ultime 24 ore vengono conteggiati complessivamente appena tre nuovi casi. Lecce è la provincia più colpita, con 70 contagi, seguita da Foggia con 35 e Bari con 10. Due invece le vittime registrate nelle ultime 24 ore. I principali indicatori della pandemia rimangono tuttavia stabili. Leggira variazione per i ricoverati in ospedale, che diventano 228, due in più di ieri, e anche per le terapie intensive occupate, che crescono di due unità salendo a 22. Quasi 150 le guarigioni nelle ultime 24 ore, mentre prosegue costante il calo delle persone attualmente positive in Puglia, passate da 4.700 a 4.300 in una sola settimana, numeri che assicurano la permanenza in zona bianca almeno sino alla fine dell'estate.